Nei videogiochi online Call of Duty Warzone e Call of Duty Vanguard a causa dell'evento festivo intitolato Festive Fervor è arrivato il Krampus ed è un problema. Non c'è bisogno che io vi spieghi di cosa si tratti anche perché trovate un video apposito sul canale. Ebbene il problema è la stessa giunta il Krampus che risulta a tratti indistruttibile con un singolo colpo infatti di sconfiggere ogni giocatore e quando questo non accade inizia a tormentarlo rendendo le partite ingiocabili. Krampus deve essere rimosso queste le parole che stanno spopolando sui social dove i giocatori si stanno lamentando pesantemente della giunta secondo molti insensata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.